Così, poi abbiamo fatto già 4-5 giorni di corsa che non era tanto facile, oggi è venuto fuori una giornata molto dura. Però con queste pendenze penso che dopo è arrivata anche acqua, pioveva, pendenze di 30% era difficile salire su e come diceva anche il contrattore che si è lanciato in piedi e non riusciva ad andare perché si volava la ruota, allora anche io andavo sempre seduto in piedi con la forza che dicevo su e poi alla fine stiamo riusciti ad andare in fuga anche con Vincenzo sono rientrati in discesa e in totalità lunga mi hanno tagliato le gambe anche per separare un ultimo di due chilometri e quando mi riclassificano un quarto troppo forte, forse se facciamo l'ultimo strappo di piedi direttamente dalla salita un'altra salita ancora forse denevo però così con due salita ancora dall'arico era molto difficile anche per me e oggi era una tappa molto impegnativa anche per movimenti di classifica perché dopo 5 giorni e per denze così penso che ho recuperato bene anche ieri poi alla fine loro hanno fatto molta fatica anche per arrivare sul dietro e oggi andavo tranquillo allora sicuramente del resto stiamo risparmiando di più di altri